Nessuna novità dalla prima riunione del 2014 della Banca Centrale Europea, ma molte conferme a partire dai tassi di interesse che rimangono inchiodati al minimo storico dello 0,25%. L'anno nuovo è iniziato con i membri del board della BCE che hanno infatti rafforzato il loro impegno a mantenere i tassi di interesse bassi per tutto il tempo necessario per sostenere l'economia dell'area euro. E se il messaggio non fosse stato abbastanza chiaro, durante la consueta conferenza stampa mensile a Francoforte, a rassicurare i mercati ci ha pensato anche il governatore Mario Draghi, che ha ribadito con toni decisamente accomodanti che l'Eurotaur è pronta ad agire se necessario, con tutti gli strumenti che ha a disposizione. Quanto alla crescita economica, Draghi ha rimarcato che l'Europa non è ancora fuori dalla crisi, ma la ripresa è in atto. L'ex numero uno di Banca Italia ha inoltre ricordato che la ripresa sarà lenta anche nel 2014 e nel 2015 con una disoccupazione che rimane decisamente elevata, soprattutto tra i giovani.